Salute world, siamo Anonymous. La sua replica è stata accolta con una reazione sdegnata da parte del Movimento 5 Stelle, che ha definito il suo intervento come un attacco senza senso. Tuttavia, la Premier ha ribadito il suo punto di vista, sottolineando che spetta agli italiani giudicare il lavoro del governo e che lei continuerà a lavorare per il bene del paese senza mai compromettere la sua credibilità e il suo ruolo di rappresentante all'estero. Il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, invece, ha preferito lasciarsi andare a uno sfogo sotto microfono, commentando il duro attacco di Meloni al Movimento 5 Stelle con la frase «Lì hai asfaltati». Un commento che ha suscitato molte polemiche e che ha sollevato il dibattito sulla situazione politica italiana. Il clima politico è sempre più acceso, con schieramenti che si accusano reciprocamente di non essere all'altezza dei propri ruoli. Tuttavia, sono gli italiani a dover giudicare il lavoro del governo e a decidere se il paese sta andando nella giusta direzione. La Premier Meloni, dal canto suo, ha promesso di lavorare sempre per il bene dell'Italia, senza mai compromettere la sua credibilità e il suo ruolo di rappresentante del paese all'estero. Resta da vedere come si evolverà la situazione politica nei prossimi mesi e come la popolazione giudicherà l'operato del governo.